Rino Quattromani, direttore artistico del concorso Canoro, una voce in Campania. Il concorso è partito lo scorso 13 aprile. Da San Giorgio Alcremano, io sono un professore di musica e questo concorso è itinerante. Tocchiamo molti comuni della regione di Campania per approdare poi alla finale che si terrà a Pompei il 6 settembre 2024, chiaramente con ospiti nazionali. A chi si rivolge questo concorso? Giovani talenti, ma non solo, perché abbiamo tre categorie. Abbiamo una categoria fino a 11 anni, poi da 12 a 29 e dopo i 30. Per chi in gioventù non ha avuto la possibilità di esibirsi su un grande palco, quindi noi daremo la possibilità a tutti di calcare un palcoscenico importante. Siamo alla 21esima edizione e quindi sono tanti anni di esperienza e possiamo dire che molti di questi ragazzi che hanno partecipato al concorso oggi lavorano di musica. Il concorso farà tappa anche a Torre del Greco? Certo, saremo anche a Torre del Greco, area ex Molini Marzoli, quindi faremo una tappa di casting gratuiti. Chiudiamo questa intervista con un invito a partecipare? Sono tutti invitati a partecipare e ad assistere. Per chi vuole partecipare deve andare sul sito www.unavoceincampania.com, compilare un modulo di prescrizione. Sarà poi contattata dall'organizzazione per sapere tutte le informazioni per poter esibirsi anche qui a Torre del Greco, ex Molini Marzoli.